Gentili telespettatori, buona giornata. Sembrerebbe che la carriera di Gian Bruno, il compagno della Melloni, oscilli a secondo quello che Silviu Ciocaro gli passa per la testa. Sapete che lui, Andrea Gian Bruno, aveva un telegiornale, dirigeva un telegiornale, faceva anche la rassegna stampa. Il giorno dopo, le elezioni che vince la Melloni, viene tolto dal telegiornale, viene tolto dalla rassegna stampa, dicendogli che adesso che tu accompagna la Premier non puoi stare di fronte al pubblico perché sai, se ne sbagli mezza non te la fanno più passare. Quindi ti rimettiamo in un ufficio come il lavoro che facevi quando hai cominciato, andrai a scrivere dei programmi giornalmente e è tornato a fare il lavoro che faceva quando è entrato in Mediaset. Non mi sembra proprio una promozione, non è che gli hanno detto, beh ti tolgo dal telegiornale, ti faccio direttore di questa divisione, no, ti faccio tornare a fare quello che facevi prima. Lui che è da sempre in Mediaset, è la sua azienda, è la sua casa, ha fatto quello che dicevano. Ha chiesto anche di poter lavorare da casa, invece che stare, gli hanno detto no, devi stare in ufficio, non puoi lavorare da casa. E perché con la famiglia, la moglie, la compagna che è impegnata, sarebbe meglio per me poter lavorare da Roma? Gli hanno detto di no. No. Naturalmente, se fate uno più uno, viene fuori due. Uno più uno fa due, almeno. Quindi, sembrava che realmente Berlusconi abbia fatto la vendetta. Vi ricordate quando Berlusconi diceva Ma io, in contrasto con la Meloni, ma va, ma se il suo compagno lavora per me, ma non è vero. Sembrava proprio una minaccia. Sembrava proprio una minaccia. Come dire, erano quei giorni che voleva dare all'Aronzulli un ministero di peso, e in quei giorni la Meloni diceva di no. Quando è proprio in quei giorni che lui disse Ma quale scontro con la Meloni? Il suo compagno lavora a Mediaset. Eh, a voi detta così come cosa sembra? Passato il tempo, Berlusconi ha sempre quel rancore invidioso verso la Meloni, che gli ha rubato la scena, il suo indeclino e l'altra in ascesa, fino all'altro giorno che Berlusconi dice Ho invitato la Meloni, lei è un grande leader come lei, non c'è nessuno. Il giorno prima aveva detto la signora Meloni ha fatto il suo primo errore con le accise, e il giorno dopo, come lei, politico di una tale grandezza come lei, non c'è nessuno, neanche in Europa, nessuna parte. Come? Dal giorno prima, in 24 ore, cambi diametralmente opinione? E da lì in poi, l'Andrea Gianbruno torna in video, conduce il programma Mediaset su Messina Denaro. Eh, caspiterina. Torna in video, il first gentleman, il primo uomo, no? Sapete che c'è la first lady, c'è anche il first gentleman, non era più apparso in onda alla conduzione di Studio Aperto e di TG Com 24, una decisione condivisa con l'azienda. Ha accettato quella che era la decisione dell'azienda. Dopo l'arrivo della compagna Palazzo Chigi, lui viene demansionato. E così da qualche mese lui si occupa dietro le quinde di Diario del Giorno, una rubrica che appare nel TG4. In onda tutti i giorni, dalle 15.30 alle 16.40, lui si occupa di scrivere quella rubrica. Ieri, nel giorno dell'arresto del boss, il compagno della Premier è apparso a sorpresa su Rete4 alla guida di Diario del Giorno, appuntamento eccezionalmente in onda fino alle 18.00. Così, spazio alle immagini dell'arresto, ma anche alle parole di Meloni che si complimenta con le forze dell'ordine. Beh, intanto ospiti Andrea Dalmastro di Fratelli d'Italia, sottosegretario al Ministero della Giustizia, Simona Malpezzi per il Partito Democratico, l'esponente di Forza Italia, Rita Dalla Chiesa, e il giornalista Daniele Capezzone. Naturalmente, se Mediaset voleva metterlo al riparo, diceva, ti devo togliere dallo schermo, perché se dici mezza cosa strana, capita il finimondo. E come? E allora adesso gli fai condurre un programma dove inviti l'esponente del PD, l'esponente di Fratelli d'Italia, quello di Forza Italia, Capezzone, quindi lo metti proprio in una condizione che volevi evitare. E allora io mi chiedo, quella condizione che volevi evitare allora non era vera, eh? Era una scusa per toglierlo dallo schermo. Qualche settimana fa Dago Spi aveva parlato delle difficoltà di Gian Bruno dalle parti di Cologno Monzaes. Dice, pare sia stata rimbalzata la sua richiesta di lavorare a Roma, non dovendo più andare in video, per stare più vicino alla famiglia. L'azienda di Berlusconi gli ha risposto picche, dovrà restare a Milano, sono cose che succedono quando qualcuno non attiene quel che voleva, cioè diventare ministro. Aveva fatto sapere il sito diretto da Roberto D'Agostino. Eh sì. Cioè, D'Agostino cosa sta dicendo? Che Berlusconi la sta facendo pagare a Meloni, costringendo il compagno a stare chiuso in un ufficio a Milano. Eh, D'Agostino dice, succede quando qualcuno non attiene quel che voleva. Una chiosa che spostava il discorso in un campo politico, seppur all'interno della maggioranza. Gian Bruno è il compagno della Meloni da sette anni. Proprio a Mediaset era avvenuto il primo incontro dietro le quinte di Quinta Colonna, dove il giornalista lavorava come autore. Lui è classe 1981, ha nel proprio curriculum diverse collaborazioni importanti con l'azienda guidata da Pier Silvio Berlusconi, da Calispera, di Alfonso Signorini, mattino cinque, stasera Italia, Quinta Colonna, prima di approdare al Tg del Biscione. E così, magicamente, torna sullo schermo quando all'improvviso Berlusconi dice che la Meloni è il più grande politico che c'è in circolazione. E il compagno torna in televisione. Io quando avevo visto questo allontanamento ho detto mamma mia, che livello siamo arrivati. Magari mi sbaglio, è solo una grandissima coincidenza. Ma anche no. Grazie a tutti e arrivederci. Grazie.